Grazie per questa opportunità che Otto Pagine ci dona per poter parlare dell'evento che stiamo preparando. Prima di tutto saluto tutti gli arianesi, sono Don Napoliner Domara, incaricato della passorale del santuario in questi ultimi tempi. Ci stiamo preparando proprio per la Pentecoste, che è la discesa dello Spirito Santo nella Chiesa e sulla Chiesa. E allo stesso momento per noi qui arianesi è un evento molto importante perché proprio a questa data, a questa ricorrenza, a questa festa, è apparsa qui la Madonna. E per noi sono doppi eventi che dobbiamo celebrare. È bello sentire dalle sue parole questa parola, arianesi, quindi anche lei insomma tiene molto a questa città. Ci tengo molto, è una bellissima città, c'è gente che mi hanno accolto anche se sono estracomunitario e mi sento proprio a dire che sono arianesi. E quindi è un appello che vogliamo lanciare a tutti per poter partecipare attivamente a questo evento. Perché nel passato, come mi hanno raccontato, c'era veramente, era un evento veramente grandissimo, grandioso per tutta la città di Ariano. Come vi preparerete in questi giorni? In questi giorni abbiamo cominciato già come si faceva sempre nella tradizione, con i sette sabati della Vergine Maria e stiamo continuando. In questo momento stiamo facendo anche la novena in preparazione alla Pentecoste per invocare il dono dello Spirito Santo. E allo stesso momento stiamo materialmente preparando i luoghi. E quello che ci porta anche a cuore è quello di poter, attraverso questo evento, riscoprire ancora di nuovo la bellezza di questo luogo, il messaggio di questo luogo. Questo è il grande desiderio, quindi parlare ancora di questa realtà e soprattutto attraverso anche le testimonianze. Lei mi diceva della gente, farla riscoprire un po' a tutti, anche a chi non la conosce. Effettivamente è l'impegno che dobbiamo prendere su di noi come responsabili, come cristiani di questo luogo, fare conoscere. Perché se la Madonna ha voluto venire qua, intervenire, ha una ragione. Quindi è un appello a ognuno di noi di poter fare conoscere questo luogo, la bellezza, la presenza della Vergine Maria qua. Abbiamo perso un pochettino da quello che mi hanno raccontato. Gente era proprio attaccata a questo luogo con la fede. E adesso abbiamo perso un pochettino. Vogliamo riscoprire, ma questo partirà da... Andiamo a riscoprire il messaggio e quindi invitiamo tutti quelli che hanno conosciuto questo luogo da piccoli e che hanno una testimonianza da dare. Attendiamo tutti a dirci qualche cosa, perché comunque nell'apparizione non c'era nessuno, ma la tradizione è stata rimandata, tramandata da generazione in generazione e quindi abbiamo bisogno delle testimonianze di tutti per poter riscrivere su pagine belle la storia di questo luogo. Anche chi ha delle foto, chi ha dei materiali, testimonianze di anziani, di nonni, può venire qui, insomma, per riscoprirla insieme e scriverla, come ha detto lei, questa storia. Ecco, questo è un appello che lanciamo a tutti. Se qualcuno ha delle foto antichissime, se qualcuno ha delle testimonianze dei nonni che non possono anche uscire, noi siamo anche pronti a spostarci per ascoltare tutte le testimonianze e attendiamo tutti qua. Qual è il suo desiderio? Il mio desiderio più grande è che veramente questo luogo riprenda il suo, non so, la fede che ha suscitato questo luogo, che questa fede si raviva ancora di nuovo e che trovo tutti gli anziani che frequentano ancora di più questo luogo. Questo è il mio desiderio più grande, perché qui la Madonna ci attende, ci attende, riceviamo tante grazie, tante persone hanno ricevuto tante grazie in questo luogo, anche noi non dobbiamo, dobbiamo venire a incontrare la Madonna.